L'ultimo viaggio di Don Fabrizio è tratto dal settimo episodio del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vuol dire quindi che non è proprio l'ultimo episodio, l'ultimo episodio è la morte, quindi questo è un po' quello che precede la morte, ma oggi comunque facciamo così, diciamo delle notizie in generale su questo romanzo che è stato un caso editoriale, cioè praticamente un successo imprevisto, eravamo negli anni 50, tra l'altro Tomasi di Lampedusa era appena morto, perché era un personaggio molto schivo, molto riservato, non aveva mai fatto né il letterato né lo scrittore in vita sua, lui era un nobile, Tomasi di Lampedusa perché faceva parte di questa famiglia nobiliare che era quella che era dei signori appunto dell'isola di Lampedusa, aveva scritto questo romanzo, muore e viene pubblicato da Feltrinelli questo romanzo e diventa un successo, inaspettato, tra l'altro quelli erano anni in cui c'era il neorealismo, cioè c'era una letteratura in cui i protagonisti erano i popolari, la gente del popolo, erano, potevano essere appunto per esempio i partigiani nel caso della seconda guerra mondiale che avevano lottato per la liberazione dal nazifascismo, oppure in generale persone che vivevano in condizioni difficili perché nel secondo dopoguerra si viveva in una condizione anche economica molto difficile, invece questo romanzo, il protagonista è un principe, cioè capite che già questa è una cosa molto strana. Poi un'altra cosa interessante, nella storiografia generalmente il risorgimento ci è sempre presentato dal punto di vista appunto di chi ha portato avanti e ha attuato questo risorgimento e quindi di chi ha lottato per l'unificazione dell'Italia, giusto? Invece in questo libro la prospettiva è completamente diversa, nel senso che non è la pagina gloriosa, l'impresa dei mille come conquista di civiltà, eccetera, no, questa volta la prospettiva è da parte di chi vede quasi quasi l'arrivo dei mille in Sicilia come una scocciatura, perché sono i nobili che hanno magari il potere sotto i borboni e quindi vedono l'arrivo dei Garibaldi come qualcosa che sembra sconvolgere la loro esistenza e lo status quo. Presentare l'esorgimento da un'altra prospettiva o tratteggiare melanconicamente la Sicilia dominata dai Savoia poteva quindi essere tacciato di quello che il peccato mortale secondo gli storici moderni abituati al conformismo culturale, cioè questo romanzo era accusato di revisionismo. Parliamo di revisionismo tutte le volte che un dato storico assodato, ad esempio è assodato che la vittoria dei Savoia sui Borboni sia una cosa positiva, è una cosa assodata, tutti gli storici da Alessandro Bardero a tutti gli storici insomma più in auge nella nostra storiografia attuale esaltano i Borboni, scusate ho sbagliato, i Savoia e denigrano i Borboni, esaltano diciamo le imprese del risorgimento, Gilles Pecou il nostro come dire le retture dell'università della Sorbona denigrano appunto invece l'oscurantismo dei Borboni eccetera, invece in questo romanzo si assume proprio il punto di vista di chi è perdente nella storia, cioè per esempio dei nobili che perderanno il potere ovviamente con l'arrivo del Savoia. Oltretutto il clima culturale allora degli anni 50 risentiva del neorealismo imperante, neorealismo cioè praticamente si tratta di un movimento culturale non solo a livello letterario ma anche a livello cinematografico che assumeva il punto di vista delle classi più umili del popolo. Che fosse invece un nobile come Tomasi di Lampedusa a prendere la parola in un romanzo in cui sono i nobili protagonisti era uno scandalo per l'epoca e il fatto che abbia avuto successo questo romanzo era ancora più scandaloso. C'è una levata di scudi degli intellettuali alla page che dicono ma com'è possibile insomma che questo libro abbia avuto questo successo? Ma com'è? Diamo la voce, diamo la parola ai nobili, agli aristocratici, a quelli che nella storia hanno sempre lottato per l'anzien regime. Però qual è il punto? Il punto è che passati tanti tanti decenni dopo queste polemiche anche quegli storiografi ad esempio diciamo tra virgolette progressisti hanno poi riconosciuto che questo libro ha un valore, ma un valore notevole anche da un punto di vista storico. Adesso ci sono gli storici che invitano gli studenti a leggere Il Gatto Pardo per capire meglio anche diciamo certe sfumature per esempio anche della nostra storia risorgimentale che altrimenti non riusciremmo a capire se adottassimo solamente quel punto di vista tradizionale non riusciremmo a capire queste stesse sfumature. La stessa cultura dominante nelle università dovrà poi riconoscere i suoi errori e in decenni più prossimi ai nostri attribuire a questo romanzo un valore storico documentario assolutamente innegabile e così avviene proprio nelle aule di scuola in classe quinta che il prof di storia e filosofia dica al prof di lettere vai a leggere Il Gatto Pardo. Però io non ho capito perché è accusato di revisionismo? Il revisionismo è quando c'è un'interpretazione storica che è innegabile. Ad esempio i fascisti sono tutti violenti e gli antifascisti sono nel giusto. Arriva Giampaolo Pansa e ti dice guardate che ci sono tanti partigiani oppure tanti che hanno antifascisti che si sono macchiati di delitti efferati. Questo è revisionismo. Oppure appunto c'è il risorgimento. Nel risorgimento in Sicilia arriva Garibaldi, arrivano i Savoia e cacciano i Borboni. Quindi la storia dice che finalmente è caduto un regime, una struttura che è quella borbonica, possiamo dire una struttura antiquata, oscurantista, viene sostituita da una struttura politica che è quella del nascente Stato d'Italia. Quindi una struttura decisamente più nuova, possiamo dire più progressista. Garibaldi pensa appunto a Garibaldi. Ecco, si parla di revisionismo quando questi assiomi, questi teoremi storici vengono messi in discussione. Capisci adesso cosa significa la parola revisionismo? Ma eventualmente potrai approfondire questo discorso con la tua professoressa di storia e filosofia. Ecco, nel 63, quindi pochi anni dopo la pubblicazione di questo libro, è stato fatto un film da questo libro, il Gattopardo con regia di Lucchino Visconti, Palma d'Oro come miglior film al XVI Festival di Cannes. Non so quali altri tantissimi riconoscimenti ha avuto questo film che è effettivamente un capolavoro. Utilizzeremo i fotogrammi tratti da questo film per, insomma, come sfondo o come illustrazioni della nostra spiegazione. Qui per esempio vedete in questo fotogramma appunto Bart Lancaster che interpreta il principe di Salina e Romolo Valli che interpreta padre Pirrone. Uno dei primi personaggi che c'è nel romanzo, infatti, è il religioso di famiglia. Perché i nobili avevano il religioso di famiglia? Potevano permettersi il prete in casa, diciamo, tra virgolette, no? È quello che accompagna il principe a Palermo quando dà sfogo con Mariannina ai propri stimoli sessuali. Cioè, praticamente, il principe è sposato ma quando vuole, quando ha bisogno, tra virgolette, di sfogarsi, va a Palermo in una casa chiusa, diciamo così, no? In un bordello, va da una prostituta, da questa tale Mariannina e la moglie, tutto sommato, la moglie lo sa, ma non è che si può dire più di tanto. In fondo lui è anche un po' il padrone di famiglia, no? E quindi può fare quello che vuole. E il prete deve pure accompagnarlo, il prete lo deve pure accompagnare in questo tipo di scappatelle. La principessa Maria Stella, sarebbe la moglie del principe, è troppo casta, concepisce il senso solo religiosamente come procreazione di figli. Ben sette sono i figli che avrà infatti con, appunto, con sua moglie, no? E quindi quando invece lui avrà bisogno di un rapporto sessuale di altro genere, più appagante, lo potrà avere non senz'altro con la moglie, ma appunto con questa tale Maria Stella. Tra l'altro i figli del principe di Salina sono tutti un po' inetti, un po' incapaci e infatti una delle grandi ammarezze della sua vita è proprio questa, che non c'è nessuno, almeno soprattutto non c'è nessuno dei figli, che possa ereditare, che possa portare avanti, diciamo, la casata, la famiglia e la dignità di questa casata, di questa famiglia così come ce l'ha in mente lui. Un altro personaggio interessante del romanzo è il cane, no? Forse è l'unico essere vivente che lo capisce davvero. Il principe il sente più a suo agio con i cane che non tante volte con gli uomini e le donne, anche voi, bravo, esatto, che lo circondano, capite? Come ha spiegato, dei tanti figli che ha avuto con la moglie nessuno corrisponde al modo di essere, di pensare al principe. Francesco Paolo, il primo genito, l'erede, chiamato il duca, ma il principe non ha grande stima di lui, un po' un bambaccione, insomma, privo di nerbo, di nerbo, ecco. Giovanni, il secondo genito è scappato, è andato a fare commesso a Londra. Ecco, paradossalmente più in sintonia con il principe di Salina, cioè con il nostro protagonista, è il nipote, non il figlio, ma il nipote Tancredi, no? Che non è suo figlio, dicevamo, ma almeno ha un po' del carattere, ecco, dello zio, nel senso che è posto sotto la tutela del principe. Vedete che il nipote è interpretato da Alain Delon, eh? È lui? Sì, Alain Delon è lui, sì, sì. Alain Delon, eh, beh, insomma, Alain Delon, ai miei tempi, quando si diceva un bel attore si diceva Alain Delon, insomma, un po', come dire, sono tempi un po' andati, a dire la verità, però, ecco, sicuramente. Ecco, lui non combatte Tancredi per grandi ideali risorgimentali, ma per mantenere le cose come sta, come vedete, fa anche il militare, no? E allora uno potrebbe dire, beh, se fa il militare, poi confluirà, diciamo, in quello che sarà l'esercito del nascente regno d'Italia, allora potremmo dire che persegue grandi ideali. No, 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 lo dice chiaramente allo zio. Dice, molte cose sarebbero avvenute, ma tutto sarebbe stata una commedia, una rumorosa, romantica commedia con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca. Cioè, praticamente, pensa un po', il risorgimento, l'arrivo di Garibaldi, la liberazione della Sicilia, dell'Italia meridionale dal regime borbonico, antiquato regime borbonico, in realtà è qualche cosa che lascia più o meno le cose così come come erano prima. Solamente una rumorosa, romantica commedia, con qualche macchia di sangue, come dire, sì, ovviamente è una guerra, qualcuno morirà, eccetera, però è una cosa buffonesca, diciamo. È un modo di ridicolizzare quello che invece appare per noi una vicenda storica dalle tinte eroiche, no? Garibaldi, Mille, l'impresa, ma dal punto di vista del nipote del principio di Serena, cioè di Tancredi, non si tratta se non di una commedia, con qualche macchia di sangue. Ecco, avete capito adesso cosa vuol dire revisionismo? Altri personaggi che sono presenti in questo romanzo, ad esempio il colonnello parla vicino, il conservatore piemontese che rappresenta l'esercito dei Savoia, in genere i borghesi che si sono avvarsi dell'impresa di Garibaldi e poi lo avevano fermato e ferito quando nel 62 Garibaldi aveva cercato di occupare la città di Roma. Tra l'altro, lui, allora, praticamente sia lo scrittore, Tommasi di Lampedusa, sia il protagonista, il principe di Salina, sono dei nobili e quindi vedono di mal occhio i borghesi che con questa unificazione d'Italia, con questo regno d'Italia, eccetera, eccetera, si sono fatti strada e sono riusciti a diventare, con questo governo è diventato un generale e dopo vedremo Don Calogero che è diventato un po' il sindaco del paese. La tenuta di Donna Fugata è la residenza di campagna dei di Salina, amministrata da Don Onofrio, dove il principe trascorre le vacanze con la sua famiglia. Poi c'è Concetta, che è la principessina. Ecco, Concetta, quindi, è una delle figlie del principe di Salina. È innamorata di Tancredi, che non la ama, mentre il conte Carlo Cavriaghi, che è un giovane ufficiale amico di Tancredi, prima Garibaldino, poi Piemontese, è vanamente innamorato di Concetta. Abbiamo detto comunque che Concetta, così come tutti quanti i figli del principe, in realtà è un pochettino troppo bigotta, perché tutti quanti hanno seguito un po' le orme della madre, Maria Stella, e quindi, insomma, anche lei viene disdegnata dal nipote Tancredi, nel senso che forse, tra virgolette, la tradizione avrebbe voluto che i nobili si sposassero tra di loro. Invece Tancredi ama una borghese, non ama la nobile, diciamo, cugina Concetta, ma ama, come vedremo, Angelica, una borghese. Don Ciccio Tumeo è un organista borbonico, la rifigurazione di chi non ha capito da che parte andava la storia, il nostalgico destinato alla sconfitta e allo sconforto. Ecco, sia il principe di Salina, abbiamo detto, sia il nipote, non hanno dei grandi valori o dei grandi ideali. Quindi, se prima erano borbonici, tra virgolette, perché prima il regime era quello, poi adesso si adegueranno al nuovo regime, al Regno d'Italia, i Savoia, i Piemontesi, eccetera, ma mai senza nessuno slancio. Però loro hanno capito questa lezione fondamentale della storia, che bisogna sapere da che parte gira il fumo, insomma, se conviene stare da una parte piuttosto che dall'altra. C'è chi invece, come questo tale Don Ciccio Tumeo, non ha capito che certe volte bisogna sapersi adeguare, capire un po' come le cose si evolvono. Ecco, Don Calogero Sedara, ne abbiamo già parlato prima, è proprio il rappresentante dei parvenus, cioè degli arrivisti, cioè dei personaggi che tipicamente appartenenti alla classe borghese, come abbiamo visto anche in tantissimi altri testi di letteratura, riescono a cogliere l'occasione. Ad esempio, lui riesce a cogliere l'occasione dell'unificazione d'Italia, eccetera, per compiere un salto di classe sociale, ad esempio. Nel senso che è colui che riesce a trarre il massimo vantaggio personale da quella situazione e dicevamo praticamente diventa una sorta di podestà del paese, se non erro. Sua moglie è una zotica, lui stesso non è proprio un esempio di stile e quindi per esempio proprio quando c'è un ballo lì in questo palazzo, si presenta vestito col frac, ma è ridicolo, no? Però lui ha colto l'occasione al momento giusto e quando sono arrivati Savoia appunto dicevamo è riuscito a diventare sindaco. Sua figlia è una persona molto più fine rispetto a lui, rispetto al padre Don Calogero e non ha nulla della volgarità tipica dei suoi genitori ed è quindi la donna giusta per Tancredi, è la donna giusta per il nipote del principe di Salina, è bella ed è intelligente, non solo brava, non solo il nipote, brava, bravissima, vedi che le donne hanno subito l'intuito, non solo il nipote è innamorato di lei e poi lei diventerà la sua moglie, ma anche lui il principe, lo zio anziano, anche lui è innamorato e colpito da Angelica e quindi diciamo i rapporti interpersonali sono piuttosto complessi, no? Come abbiamo già visto parlando all'inizio dei suoi, delle sue scappatelle, è piuttosto, come dire, nei suoi sentimenti è piuttosto libero il principe di Salina e quindi non è chiuso uno schema, ad esempio lo schema matrimoniale in cui voleva incasellarlo la moglie Maria Stella. Il cardinale di Palermo proviene dal settentrione e non riesce a capire la mentalità dei siciliani, statica e superstiziosa in campo religioso ma anche in campo politico come vedremo adesso. I siciliani sono un po' particolari e questo lo si vede soprattutto quando arriva un certo chevalier, un cavaliere piemontese mandato appunto dai Savoia che fa la proposta al principe di diventare senatore. Allora come abbiamo detto si sta costituendo il regno d'Italia e sono invitati anche a far parte del senato di questo nascente regno d'Italia, i maggiorenti possiamo dire, cioè i personaggi più in vista nelle varie regioni che sono state annesse al regno d'Italia. Provate a pensare ad esempio a Manzoni che diventa anche lui senatore del regno d'Italia. Allora fa questa proposta al principe di diventare lui senatore ma il principe rifiuta. Abbiamo fatto una video lezione su questo. Perché rifiuta? Appunto per il discorso che facevamo prima, la passività un po' insita nell'anima siciliana, il fatalismo. Infatti le motivazioni sono le seguenti. Uno, la storia della Sicilia da tempo abituata ai governanti stranieri, arabi, normanni, svevi, angioini, aragonesi. E i siciliani quindi sono diventati un po' cinici. E quindi come dire, l'abbiamo già spiegato che non è mosso da grandi valori e da grandi ideali questo principe e quindi non può abbracciare, sposare un nuovo ideale, questo nuovo ideale del regno d'Italia, diventare senatore del regno d'Italia. Perché più di tanto non è convinto neanche lui di questo. Perché i siciliani sono un po' così. Sono abituati ad avere dei governanti stranieri e i piemontesi sono visti un po' come stranieri. Questo è un accenno, se vogliamo, alla questione meridionale. Che è appunto questa prospettiva particolare. Per cui i siciliani vedono i piemontesi anche certe volte come persone che sono arrivate lì, nella loro isola, solamente per prendere le tasse, per costringere al servizio militare. Era un servizio militare gravoso, spesso anni e anni di servizio militare, leva obbligatoria. Ma l'abbiamo visto anche nei Malavoglia, che uno dei figli addirittura muore nella battaglia di Lissa e l'altro Ntoni perde la testa durante questo servizio militare. E poi dice ancora il principe di Salina a questo tale che l'ambiente stesso, il clima torrido e affoso dell'estate siciliana induce all'indolenza e alla pigrizia. E allora non mi venga qui insomma a fare queste proposte. Se ne tornerà infatti in Piemonte questo tale che l'ambiente senza aver ottenuto quello che cercava, cioè la disponibilità del principe a diventare senatore del Regno d'Italia. Passiamo all'ultima parte, l'ottavo episodio del romanzo. È molto importante questo ottavo episodio perché si riflette molto sulla morte, sul tempo che fugge, la morte che si avvicina. Riflette sul fatto che moriamo tutti con un volto diverso da quello che abbiamo avuto tutta la vita, con una maschera sul volto, come se fossimo un'altra persona. E allora lui moribondo si accorge, guardandosi allo specchio, che è diverso da come era stato nella maggior parte della sua vita. È già un po' deturpato e contaminato il suo volto. Si guardò allo specchio dell'armadio, riconobbe più il proprio vestito che se stesso. Altissimo, allampanato, quelle guance infossate. Non aveva più quelle guance belle piene che erano state caratteristiche insomma della sua vita, del suo aspetto diciamo, durante tutta la sua vita. La barba a lunga di tre giorni, un gatto pardo in pessima forma. Ah sì, il romanzo si intitola così perché lo stemma della famiglia era come un gatto pardo su questo scudo di famiglia, no? C'era il gatto pardo, ecco perché si chiama così il romanzo. Questo principe, la famiglia di Serena. Poi ancora si chiede, in quest'ultimo capitolo, che si chiama l'ultimo episodio, perché mai Dio voleva che nessuno morisse con la propria faccia? Perché a tutti succede così, si muore con una maschera sul volto. Insomma, Don Fabrizio capisce di morire solo e amareggiato con la consapevolezza della decadenza della sua famiglia, che ha cercato in vano di contrastare. E prima della sua morte ci sono state le morti di tanti altri, insomma, della sua famiglia. È comunque un'amarezza di fondo, perché quella dignità, ecco, che lui, ecco, questo sì era forse l'unico suo valore, l'unico ideale, la dignità della famiglia, una dignità aristocratica che voleva mantenere e conservare, beh, quella si è persa per sempre, ecco. E quindi è molto amareggiato per questo. E solo, anche in questo, possiamo trovare una grande analogia con i protagonisti dei romanzi di Verga, anche se di classi sociali diverse, cioè il nostro padron Tony e il nostro mastro Don Gesuaddo, che muoiono anche loro soli. Era solo un naufrago alla deriva su una zattera in preda a correnti indomabili. Infine fa un bilancio della sua vita. In essa, a parte la consolazione del nipote Tancredi, l'unico che forse ha mantenuto questo carattere nobile, è appunto, dicevamo, il nipote, no, Tancredi. Questo è l'unico punto positivo. Ma per il resto, veramente. Però anche lui, insomma, questo tale nipote, poi sposato con una borghese, è la situazione completamente cambiata. Il resto è ottenebrato dalla tristezza e dall'insoddisfazione. Bene, andiamo pertanto adesso a introdurre il brano che dobbiamo leggere oggi, che è tratto invece dal settimo episodio, cioè dal penultimo capitolo, cioè quello non della morte, ma di quando ormai lui è ammalato gravemente. E allora, essendo ammalato, cercherà di farsi guarire. Viene condotto in un albergo di Palermo, dopo essere rientrato da Napoli per un consulto medico. Seduto su una poltrona, le gambe lunghissime avvolte in una coperta, sul balcone dell'albergo Trinacria, tra l'altro un albergo che c'è ancora a Palermo, e che proprio sul sito, per esempio, e magari anche nell'albergo stesso, riporta questa citazione, per nobilitare un po' la sua storia. Sentiva che la vita usciva da lui a larghe ondate incalzanti, con un fragore spirituale paragonabile a quello della cascata del Reno. Ecco, ovviamente il Reno all'inizio del suo corso è abbastanza torrentizio, quando nasce dalle Alpi Svizzere, infatti ci sono delle cascate, che si trovano appunto nel nord della Svizzera, vicino al confine tedesco. Era il mezzogiorno di un lunedì di fine luglio, e il mare di Palermo, compatto, oleoso, inerte, si stendeva di fronte a lui. Dalla camera d'albergo lui vede questo mare di Palermo. Anche il Marzono Gesuardo muore a Palermo, tra l'altro, inverosimilmente immobile e appiattito come un cane che si sforzasse di rendersi invisibile alla minaccia del padrone. Ah, ecco, interessante questo. Dobbiamo notare, dal punto di vista stilistico, l'utilizzo delle similitudini. La prima similitudine, abbastanza strana, è quella del mare che è paragonato ad un cane che si sforza di rendersi invisibile alle minacce del padrone. Il padrone sarebbe il sole, ma il sole in moto e perpendicolare stava lì sopra, piantato a gambe larghe e lo frustava senza pietà. Allora, è fine luglio e quindi la canicola, diciamo, il caldo. Pensate appunto a Palermo, ad esempio, a fine luglio c'è un caldo soffocante, no? Anche questo ambiente, questo clima è forse proiezione della aridità, qui ci viene in mente un po' montale, no? Ricordate, no? Meriggiare pallido assorto. È un simbolo dell'aredità. Ed è un po' lui probabilmente si sente come questo mare che è oppresso dal sole, sta lì piantato sul mare, no? E lo frusta senza pietà, cioè il sole, il calore estivo che opprime il mare esattamente come, per esempio, il padrone opprime e minaccia il suo cane. E così come forse si sente anche lui, appunto, minacciato da questo calore eccessivo. Sotto l'altissima luce Don Fabrizio non udiva altro suono che quello interiore della vita che rompeva via da lui. L'unica cosa che lui percepiva in quella situazione, un po' di disagio per questo calore eccessivo in quell'albergo di Palermo, è la sensazione della vita che esce, che esce da lui. Era arrivato la mattina da Napoli. Ecco, dicevamo quindi che era andato a Napoli per cercare una cura, insomma, ai suoi mali. Poche ore fa, era arrivato da poco a Palermo, vi si era recato per consultare il professore Semmola, era insomma andato da un medico, da un dottore, appunto, lì a Napoli. Accompagnato dalla quarantenne figlia concetta, cioè, ricordate la figlia, quella che amava Fabrizio, senza essere corrisposta, dal nipote Fabrizietto, aveva compiuto un viaggio lugubre, lento come una cerimonia funebre. Il tramestio del porto alla partenza e quello dell'arrivo a Napoli, l'odore acre della cabina, eccetera. Il viaggio da Palermo a Napoli è stato angoscioso, quasi come una sorta di cerimonia funebre, no? Processione funebre. Sia all'andata, che è stato un viaggio per mare, sia vedremo adesso al ritorno. Ah già, avete visto anche la seconda similitudine? come una cerimonia funebre. Abbiamo detto che le similitudini rappresentano molto bene insomma il dolore del protagonista, eh? Dicevamo, lento come una cerimonia funebre. Il tramestio del porto alla partenza e quello dell'arrivo a Napoli, l'odore acre della cabina, il vocio incessante di quella città paranoica lo avevano esasperato, di quell'esasperazione querula, debole, dei debolissimi che li stanca e li prostra, insomma querula anche lamentosa insomma, che suscita l'esasperazione opposta dei buoni cristiani che hanno molti anni di vita nelle bisacce. Ah sì, i buoni cristiani che hanno molti anni di vita nelle bisacce. una metafora, no? Questa dei molti anni di vita nelle bisacce. Sembra quasi, non so perché continuano a venirmi diciamo analogie, citazioni dai testi di Verga. Uno dei testi più famosi di Verga è appunto la roba di Mazzarò. E anche Mazzarò quando sta per morire osserva che è più giovane, guarda e affronta la vita in un modo diverso, no? Perché non ha cioè non ha questa scure sulla testa della morte imminente, no? Però bella questa metafora di quelli che hanno molti anni di vita nelle bisacce. Aveva preteso di ritornare per via di terra. Praticamente lui dice, visto che il viaggio d'andata per via mare è stato penoso, proviamo a tornare per via terra. Sarà ancora peggio. Non sarà una buona... No, è che peggiorerà ancora la sua condizione. Sì, la sua salute. Decisione improvvida, infatti, avrebbe fatto molto meglio tornare per via mare così come era andato, no? Il medico aveva cercato di combattere, il medico gliel'aveva sconsigliato. Ma lui aveva insistito e così imponente era ancora l'ombra del suo prestigio che l'aveva spuntata. Era comunque imponente, sia da un punto di vista fisico, il principe di Salina, sia da un punto di vista morale. E quindi quando decideva una cosa, quella era. E non si discuteva, no? Ecco, pensate che ancora oggi il viaggio attraverso la Campania, la Basilicata, la Calabria per giungere in Sicilia è ancora oggi penoso, difficile, complicato. Provate a pensare allora, no? Come poteva esserlo ancora di più. Con il risultato di dover poi rimanere 36 ore rintanato in una scatola rovente, si intende quindi il treno. Altra metafora questa della scatola rovente. Sono tutte metafore che accentuano il disagio di questa situazione, no? Insomma è stato per 36 ore a carrozza del treno, no? La scatola rovente. Soffocato dal fumo delle gallerie che si ripetevano come sogni febbrili. Stavolta torna una metafora, quella delle gallerie che si ripetono come dei sogni febbrili. Sapete quando uno ha febbre, no? E quindi fa dei sogni, anche lì, più incubi, insomma, che sogni. Accecato dal sole nei tratti scoperti. Quando uno viaggia in treno, tutto ti dà fastidio. Come abbiamo detto, dava fastidio, per esempio, al principe, quando passavano nelle gallerie. E c'erano tante di gallerie in cui dovevano passare, perché ovviamente, come ben sappiamo, quel tratto, per esempio, non si dice ancora in autostrada, il maledetto tratto Salerno-Reggio Calabria, no? Mamma mia! Quante montagne, quante gallerie, che tratto difficile, insomma. Ma anche quando c'era il sole. Quando magari uscivano da una galleria. Quando esci da una galleria, ti dà fastidio ancora di più il sole, no? Quei tratti espliciti come tristi realtà, umiliato dai cento bassi servizi che aveva dovuto richiedere al nipote spaurito. Cioè, deve anche chiedere. E questa è una di quelle cose insopportabili per il principe Salina. Chiedere agli altri, no? Dover dipendere dagli altri. E questo in genere avviene con una persona malata e sa che deve dipendere dagli altri. E quindi è costretta a chiedere. Si attraversavano paesaggi malefici, giogaie maledette. Si intende quindi i passi, i valichi, la spromonte, no? Insomma, le montagne che ci sono, ad esempio, tra la Basilicata e la Calabria. Pianure malariche e torpide. Quei paesaggi calabresi e basilischi. Basilischi sta per della Basilicata. Lucani, insomma. Che a lui sembravano barbarici. Mentre di fatto erano tali e quali a quelli siciliani. Quando tu sei in un posto che non è il tuo paese, insomma, vedi tutto come qualcosa di negativo, no? Anche se magari non è che sia così tanto diverso da quello che è il tuo paese, no? La linea ferroviaria non era ancora compiuta. Nel suo ultimo tratto vicino a Reggio faceva una larga svolta per metà ponto, attraverso paesaggi lunari che per scherno portavano i nomi atletici e voluttuosi di Crotone e di Sibari. Ecco, quindi, oltretutto si tratta di un viaggio lungo, abbiamo detto, non diretto, perché magari la linea ferroviaria non è compiuta del tutto e quindi occorre fare dei giri, dei giri lunghi, passando, ad esempio, proprio da quei posti che pure hanno dei nomi così, che hanno un certo prestigio storico, no? Perché ricordano le colonie greche che erano state fondate appunto nell'antichità. A Messina poi, dopo il mendace sorriso dello stretto, ecco, tutto è visto come ostile. Anche, diciamo, l'amenità dello stretto di Messina, la sua piacevolezza, è menzognera, è mendace, sbugiardato subito dalle riarse colline peloritane. Dopo questo bel paesaggio dello stretto di Messina, ti trovi subito sbalzato in un ambiente montuoso, piuttosto arido e secco, quello dei monti peloritani vicini a Messina. Di nuovo una svolta, lunga come una crudele mora procedurale. Si era discesi a Catania, ci si era arrampicati verso Castrogiovanni. Insomma, anche lì un percorso, abbiamo detto, lungo, estremamente lungo, tortuoso. La locomotiva che annaspava su per i pendii favolosi sembrava dovesse crepare come un cavallo sforzato. Ritornano quelle significative, oserei dire, espressionistiche similitudini. Questa, per esempio, della locomotiva che arranca come un cavallo sforzato. Ci viene in mente il cavallo stramazzato di spesso in mare di vivere. Vi ricordate di Eugenio Montano? E dopo una discesa fragorosa si era giunti a Palermo. All'arrivo le solite maschere dei familiari, con il dipinto sorriso di compiacimento per il buon esito del viaggio. Ecco, qui c'è tutto un discorso, l'abbiamo già visto prima, sulla maschera, ne parlerà poi quando rifletterà sulla morte e sulle apparenze, per cui di fatto il viaggio è stato, come abbiamo visto, il più disagevole possibile e ha ulteriormente peggiorato la sua situazione di salute. Ma quando arrivano a Palermo tutti quanti sorridono, il principe, come a dire, oh che bel viaggio che hai fatto, il buon esito del viaggio. È tutto un pochettino, diciamo, convenzionale ipocrita. Fu anzi dal sorriso consolatorio delle persone che lo aspettavano alla stazione, dal loro finto e malfinto aspetto rallegrato che gli si rivelò il vero senso della diagnosi di Semmola, che a lui stesso aveva detto soltanto delle rassicuranti generalità. Addirittura, paradossalmente, lui capisce di essere ammalato gravemente proprio dal fatto che questi sorridono, i parenti sorridono, ma si capisce che è una cosa finta, no? E allora lui capisce che la malattia è grave, gravissima. Persino il dottore non glielo ha fatto capire così chiaramente come glielo fanno capire i volti così ipocriti dei parenti che lo accolgono a Palermo. E fu allora, dopo essere sceso dal treno, mentre abbracciava la nuora sepolta nelle gramaglie di vedova, i figli che mostravano eccetera eccetera. E quindi, diciamo, è un accenno questo anche ai lutti familiari. I figli che mostravano i loro identi e i sorrisi, Tancredi con i suoi occhi timorosi, Angelica con la seta del corpetto ben tesa dai seni maturi, fu allora che si fece udire il fragore della cascata. Ecco, probabilmente, comunque abbiamo visto che è stato un viaggio tormentoso. Però proprio il fatto di essere arrivato ha fatto sì che una certa condizione fisica del principe Salina si esplicitasse ancora di più. E quindi, con l'immagine del fragore della cascata, che è un'ulteriore metafora, abbiamo appunto un riferimento allo svenimento del principe Salina, che sta male. Quando arriva a Palermo, proprio sviene e sta male. Probabilmente svenne, perché non ricordava come fosse arrivato alla vettura, come era arrivato in carrozza, diciamo. Vi si trovò disteso con le gambe rattrappite, col solo Tancredi vicino. L'unico che gli è vicino è Tancredi, l'abbiamo già detto, e anche l'unico che gli è vicino spiritualmente nella sua famiglia. C'è una famiglia piena di tanta gente che non lo corrisponde, che non è in sintonia con lui. L'unico è il nipote, Tancredi. La carrozza non si era ancora mossa e da fuori gli giungeva all'orecchio il parlottare dei familiari. Non è niente, il viaggio è stato troppo lungo, con questo caldo sveniremmo tutti. Arrivare se non alla villa lo stancherebbe troppo. Ecco, anche il vociare e le chiacchiere dei parenti non fanno altro se non confermare il fatto che invece si tratta di qualcosa di grave. Se loro dicono che non è grave, invece poi fanno capire in realtà che è grave davvero. Era di nuovo perfettamente lucido. Notava la conversazione seria che si svolgeva fra Concetta e Francesco Paolo, i suoi figli. L'eleganza di Tancredi, ecco Tancredi, abbiamo già detto, è l'unico che mantiene e conserva quell'eleganza nobiliare a cui lui tanto teneva. Il suo vestito a quadretti marrone e bigi, la bombetta bruna. Avrete notato anche in precedenza invece l'avvenenza, la sensualità riferita ad Angelica. L'avete notato quando parlo di Angelica prima. Ah sì, il corpetto, con la seta del corpetto ben tesa dai seni maturi. Quelli sono gli unici che consolano, tra virgolette, l'anziano principe Salina. Il Tancredi e la sua donna Angelica. E notò anche come il sorriso del nipote non fosse una volta tanto beffardo, anzi come fosse tinto di malinconico affetto. Ecco, abbiamo detto che il nipote è l'unico che gli è un po' consentaneo e quindi è l'unico che esprime un sentimento vero, autentico, no? Questo malinconico affetto. E da questo ricevette la sensazione agrodolce che il nipote gli volesse bene e anche che sapesse che lui era spacciato, dato che la perpetua ironia si era adattata ad essere spazzata via dalla tenerezza. E insomma, Tancredi era uno che rideva sempre, sempre ironico, no? Se adesso però non è tanto ironico o comico, è diventato tenero, allora vuol dire proprio che lui sta male, che sta per crepare. La carrozza si mosse e svoltò sulla destra. Ma dove andiamo, Tancredi? La propria voce lo sorprese, vi avvertiva l'eco del rombo interiore. Ecco, abbiamo visto che quando uno si avvicina alla morte, abbiamo parlato prima, si deforma il volto, ma si deforma anche la voce. Zione, andiamo all'albergo Trinacria. Lo chiamava così. Il nipote, Tancredi, chiamava il principe di Salina Zione, no? Abbiamo già detto che era imponente anche dal punto di vista fisico, il principe di Salina. Se è stanco, la villa è lontana, ti riposerai una notte e domani tornerai a casa. Non ti sembra giusto? Ma allora andiamo alla nostra casa di mare, ancora più vicina. Questo però non era possibile. La casa non era montata come ben sapeva, cioè non era pronta, non era preparata per ospitare il principe, non era abitabile. Serviva solo per occasionali colazione in vista del mare, non vi era neppure un letto. All'albergo starai meglio, zio, avrai tutte le comodità. Lo trattavano come un neonato. Di un neonato, del resto, aveva appunto il vigore. Insomma, quando uno è ammalato e debole, abbiamo già detto, deve dipendere dagli altri e gli altri lo trattano bene, come uno da accudire, appunto come se fosse un bambino. Del resto lui non aveva più il vigore di un uomo, ma aveva la debolezza, tipica ad esempio di un bambino. Un medico fu la prima comodità che trovò all'albergo. Era stato fatto chiamare in fretta, forse durante la sua sincope. Ah, la sincope è quel colpo, quello svenimento che gli era venuto quando, ricordate, era sceso dal treno. Ma non era il dottor Cataliotti quello che sempre lo curava, incravattato di bianco sotto il volto sorridente e ricchi occhiali d'oro. Era un povero diavolo. Il medico di quel quartiere angustiato. Il testimonio impotente di mille agonie miserabili. Ecco, anche in questo trovò una certa analogia con la vicenda del mastodon Gesualdo. Anche lui è attorniato da medici incapaci. Ci sono. Al di sopra della reddingote sdrucita. La reddingote è un soprabito stretto in vita a lungo fino al ginocchio, chiamato anche la finanziera. Si allungava un povero volto emaciato. Il nostro principe di Sarina è smagrito, abbiamo detto. Irto di peli bianchi. Abbiamo già detto che non si fa la barba da un po'. Un volto disilluso di intellettuale famelico. Cioè l'intellettuale affamato. Sapete quegli intellettuali che vivono delle loro fantasticherie filosofiche e avevano poco da mangiare. Una specie di similitudine anche questa. Quando estrasse dal taschino l'orologio senza catena si videro le macchie di verde rame che avevano trapassato la doratura posticcia. Ecco, adesso non ho il tempo per leggervi tutto quanto il brano. Ma ci fermiamo qua. Proprio con questo oggetto. Con questo orologio con delle macchie di verde rame. Cioè con della ruggine, no? L'ossidazione di questo orologio senza catena è un po' una rappresentazione di quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Cioè di questa fase di consunzione, di decadimento fisico e spirituale insomma del principe che giunge, come abbiamo già detto in precedenza, a compimento poi nell'episodio successivo, cioè quello della morte.